Con Paolo Perani di ABB siamo a Mexpe nell'area del tunnel dell'innovazione dove sono ospiti i quattro progetti che sono stati selezionati dal cluster fabbrica intelligente. Il progetto di ABB è particolare perché coinvolge più di un sito produttivo. Abbiamo tre siti produttivi in Italia, uno a Dalmine, uno a Frosinone e uno a Santa Palomba, quindi su due regioni e hanno scale diverse, quindi sono particolarmente replicabili sulle piccole e medie industrie italiane ma anche sulla grande industria. In modo particolare oggi in Expe mostriamo un esempio di tecnologie veramente implementate, per esempio il robot che vedete qui dentro è un robot che abbiamo in azienda, che abbiamo staccato dall'azienda per portarlo qui e fa esattamente le stesse attività. L'abbiamo integrato con tantissime altre tecnologie che sono all'interno del piano in presa 4.0, noi abbiamo nel piano italiano in presa 4.0 ci sono nove tecnologie abilitanti, in questi 150 metri quadri abbiamo esempi concreti di ognuna delle nove tecnologie abilitanti, quindi mostriamo la realtà virtuale, mostriamo il concurrent engineering, mostriamo i robot collaborativi integrati con dei sistemi AGV, automated guided vehicle, abbiamo la manutenzione predittiva e tra poco parleremo qui in arena anche con delle università che ci hanno aiutato a sviluppare questi prodotti e queste tecnologie. Ecco, lo scopo dei Lighthouse Plant è un po' quello di fungere da impianti modello, impianti faro e quindi mostrare alle aziende quello che è possibile fare sfruttando i benefici della digitalizzazione e ABB ha questo doppio vestito di azienda che è fornitrice di soluzioni abilitanti e che è utilizzatrice delle stesse. Sì, lo utilizziamo all'interno delle nostre fabbriche che usiamo come progetti pilota, abbiamo fabbriche automatizzate, utilizziamo i nostri robot e utilizziamo, lavorando anche con tanti partner e con degli integratori, utilizziamo anche tante tecnologie che possono essere poi utilizzate da chi ci vuole seguire all'interno dei progetti Faro. Quindi c'è molto che si può replicare sulle piccole e medie aziende italiane. Le aziende che volessero conoscere questi impianti, visitarli e capire un po' quello che c'è, cosa devono fare? Beh, noi riceviamo tantissime visite in tre anni, per esempio la fabbrica di Dalmi abbiamo ricevuto più di 13.000 visitatori che vengono e vedono un demo center che si chiama Smart Lab dove mostriamo tutte queste tecnologie e poi facciamo dei giri guidati in fabbrica per vedere i vantaggi concreti di queste tecnologie implementate in azienda. Allora, qui stiamo mostrando un quadro particolarmente interessante perché raggruppa tutte le logiche che abbiamo implementato, questa internet delle cose. Abbiamo tantissimi sensori, abbiamo tantissima intelligenza distribuita in dei programmi su questi microprocessori. Questi programmi, lo sviluppo di questi oggetti è stato fatto completamente in Italia dove realizziamo tutto quello che vedete qui alla vostra destra. La cosa interessante, dicevo, è che addirittura i software sono stati sviluppati lavorando con le università italiane e abbiamo raggiunto il livello di automazione che lo chiamiamo embedded all'interno dei componenti. Quindi noi possiamo vedere, questa potrebbe essere una piccola industria che ha i suoi processi produttivi, utilizza le sue auto elettriche, ha una generazione elettrica, per esempio non so, utilizza vapore per dei cicli sull'alimentare, ha dei data center, ha il solare. Noi possiamo fare vedere cosa succede in realtà in un impianto dando delle logiche automatiche implementate con le nostre tecnologie. Possiamo simulare un guasto, per esempio un arco interno, vedete manca l'energia, quindi l'impianto capisce che manca l'energia, automaticamente ha salvato il data center e l'ha fatto alimentare dalla batteria, pian piano alimenta il generatore e rende l'azienda in grado di continuare a funzionare, si chiama in microrete, continuando a produrre energia anche in mancanza della rete elettrica esterna. Allora questo è il nostro interruttore, assembliamo all'interno del plant di prosinone, quello che presenteremo adesso è un'applicazione di realtà aumentata che dovrebbe assistere l'operatore durante il montaggio, durante la formazione per andare a lavorare poi sulle linee di produzione. Quindi in questo caso la nostra applicazione riconosce il prodotto e sovrappone gli oggetti digitali che sarebbero poi quelli proprio di realtà aumentata sopra l'interruttore che è un componente reale. L'operatore può cliccare ok, quindi proseguire con la scelta dei componenti da montare, come in questo caso, e la realtà aumentata indica esattamente quale componente dove montare. Ok? Questa piattaforma che si chiama Hyper Industry ci dà la possibilità anche di aggiungere ulteriori documenti, quali video, istruzioni, certificazioni, controlli audio, istruzioni audio e così via. Quindi andando avanti continua a indicarti quali sono i componenti da prelevare piuttosto che i tool da utilizzare e come utilizzarli. Quindi in questo caso l'operatore dovrebbe continuare il montaggio prelevando il frontale e sovrapponendolo all'interruttore. Con Giuseppe Moreschi di ABB per vedere la parte dedicata alla Safety App sempre qui all'interno dello stand che presenta il Lighthouse Plant di ABB. Buongiorno e grazie, grazie per questa opportunità di parlare di Safety App. Safety App è un sistema più che un'applicazione estremamente semplice che consente a tutti i lavoratori, a tutti i dipendenti, ovvero ai sensori della sicurezza, coloro che vivono ogni giorno le problematiche di una fabbrica o di un sito di effettuare un reporting che serve di un hazard, di un near miss immediatamente e fare in modo che la persona di riferimento del reparto piuttosto che dell'azienda possa poi successivamente occuparsene per poter dare una risoluzione e quindi migliorare quello che è l'aspetto della sicurezza della fabbrica. Questa applicazione è integrata all'interno di ABB che è un po' il marchio con cui Ability e che è il marchio con cui ABB rappresenta un po' tutta la sua offerta in cloud? Sì esattamente, all'interno di ABB Ability non è ancora disponibile in cloud, per il momento è disponibile on premises anche perché abbiamo una certa predisposizione da parte della clientela di avere questi dati all'interno della propria azienda e quindi abbiamo fatto un prodotto completamente installabile e customizzabile dal cliente in autonomia. È lui che decide esattamente quali sono i rischi della sua azienda che conosce e quindi può creare la categorizzazione idonea e lui che conosce che cosa vuole rilevare, dove vuole rilevarlo e quindi lui è in mano esattamente, infatti lo slang è safety is in your hand proprio perché ti consente di essere customizzabile. Possiamo anche vederla nel funzionamento, io semplicemente la attivo, come potete vedere, ho il mio disclaimer perché chiaramente è necessario anche questo, qui ho la presenza di tutti i report fatti fino ad oggi da me. Le categorie come vi ho fatto vedere precedentemente, in questo caso ne abbiamo messe alcune, per esempio facciamo un rilevamento di un problema elettrico, abbiamo poi diversi siti che sempre il cliente o la sua fabbrica o i diversi siti che può avere può customizzare, mettiamo il sito per esempio di Firenze, siamo per esempio in fabbrica e segnaliamo nel reparto robot un problema elettrico. A questo punto andiamo insieme sulla piccola fabbrichetta e vediamo che c'è proprio un cavo elettrico che ha un problema, naturalmente l'obiettivo nostro è che la persona se ne occupi immediatamente, però essendo un cavo elettrico potrebbe essere un problema molto importante, a questo punto lui invia la segnalazione sostanzialmente, in questo caso è una situazione pericolosa, si trova a lavoro, la invia, ok perfetto e questa praticamente ha raggiunto la persona responsabile di quel reparto. Possiamo anche rivederla sul nostro monitor, anche se abbiamo una connessione in fiera non esattamente velocissima, dovremo pazientare un secondo, qui sostanzialmente vengono quindi raccolti tutti i reparto, lo vedete, in questo caso è rosso, nessuno se ne è ancora occupato, è una situazione elettrica, l'ho appena fatta io adesso in diretta con voi, potremmo aggiungere altri particolari come Resolution Owner posso anche proporre una risoluzione e qui ho la mia fotografia, naturalmente il bello di questo sistema e poi fare in modo che le persone sappiano quello che viene fatto e qui per esempio possiamo aggiungere la foto del dopo, quindi avere anche un database per l'azienda molto importante delle attività fatte che dimostrano la propria attenzione alla sicurezza.